Ruolo sociale degli animali da compagnia. Con noi abbiamo il dottor Paolo Mizzolo, veterinario. Questo ruolo sociale lo hanno sempre avuto. Assolutamente. Però diciamo che metti la pandemia, metti le ricerche scientifiche, sempre più insomma viene usata la PET a livello curativo, in determinati sindromi, malattie. Ma anche come composizione delle famiglie. Una volta le famiglie erano delle famiglie grandi, quindi c'erano tante persone, c'erano i nonni, c'erano i nipoti, c'era tanta gente. Adesso invece le famiglie sono piccole. Mononucleari, dicono così, babbo, mamma e figlio. O anche fatte da persone sole. Quindi il ruolo degli animali da compagnia, in particolare il cane e il gatto, è importantissimo. Ma proprio, quante persone mi vengono in ambulatorio e mi dicono, guarda, curami bene questo animale, è l'unica cosa che ho. Perché io no, no capito. Diventa, cioè... Diventa proprio, a parte, diventa un componente della famiglia essenziale. Per chi non ce l'ha a volte questo è difficile da capire. È molto difficile. Si pensa che siano tutti pazzi, no? Però, guarda, per me è un privilegio. Assolutamente. È un privilegio perché il contatto con un animale attiva diverse situazioni. Per esempio, il fatto di abituarsi a entrare in casa, oh, il mio cagnolino, il mio gattino, questo implica un'abitudine a fare lo stesso con le persone. Le persone che hanno gli animali sono più, come dire, socievoli, accoglienti, cioè hanno una marcia in più nel senso dei rapporti con le altre persone. E svegliarsi la mattina con un animale in casa, anche se uno è arrabbiato. A parte che viene proprio definito un lubrificante sociale. Nel senso, moglie, marito è un cane, il cane è neutro o un gatto. È neutro nel senso che argomento cane e gatto non danno mai adito a problematiche strane, né a discussioni. Ma lo sai che si vede, l'avrei notato, si alza la voce e loro sparescono. Assolutamente. E già tu lì dici, no, e ti calmi. Esattamente. Veramente. No, ma è così, è così, ma appunto, si... Ma poi sono veramente incredibili, nel senso che aiutano perfino nella comunicazione, nel senso che loro hanno un sistema di comunicazione diverso dal nostro, no? La loro coda, come si muove. Certo, per cui noi ci abituiamo piano piano a comunicare in un altro modo, con lo sguardo, con la postura, cose che abbiamo dimenticato. Adesso noi, la parola, ma ha detto una parola così, cos'ha? Loro, non avendo la parola, noi ci abituiamo a leggere delle cose che normalmente non riusciamo a leggere. Diventi, diciamo, più attento, no? Sì. Impari a capire come comunicano. Esattamente. E quindi più attenzione, come hai detto te, che poi riversi anche negli esseri umani. Assolutamente. Perché ti abitui? E in quel modo lì si apprezzano delle cose che normalmente non si apprezzano e quindi è più facile la comunicazione. Ma poi basta pensare alle persone anziane. Le persone sole, anziane, con un cane o con un gatto in casa. Se non avessero quello, veramente sarebbe... Che poi dice, non posso portare fuori il cane, ci sono cani di piccola taglia che non c'è bisogno che facciano la passeggiata due volte al giorno, no? Quindi è importante scegliere anche la tipologia di amico, di animale. Ma poi è uno stimolo. Sono... La passeggiata. Allora, quando si dice, per esempio, guardi, gentile signore, gentile signore, questo cane ha bisogno di un'alimentazione particolare. Ah, dice, allora devo attraversare la città perché il negozio del mangime per animali è di là. Benissimo. Andiamo. Andiamo, così ti fai una passeggiata, così esci, così dedichi la tua attenzione a determinate cose. Non pensi... E devo dire una cosa, ci sono tanti veterinari che al momento in cui hanno bisogno gli animali delle cure e tante persone non se le possono permettere che effettivamente vengono incontro, eh? Questo... È vero o no, dottore? Questo è un argomento un po' spinoso. Però dai, ci sono tanti. Sì, no, ma nel senso che evidentemente chi fa il lavoro come il mio deve avere una certa... Sì, la dovete avere. Io ho notato, insomma, che tanti dicono, lasciamo perdere, eccetera. Certo, un certo occhio di riguardo. Però, indipendentemente dalla famiglia, vengono usati anche per tantissime altre situazioni... Assolutamente. Che sono anche più importanti, no? Sono più importanti. La pet therapy, nelle patologie, voglio ricordare, ne abbiamo parlato in trasmissioni precedenti, poi probabilmente lo faremo... Da tanti anni tu l'hai presentata, questa della pet therapy. In questo momento il Lions Club Arezzo Chimera ha finanziato un progetto per aiutare una ragazza affetta da epilessia e il cane viene addestrato proprio per avvertire chi sta intorno, i familiari di questa persona, che sta venendo una crisi epilettica. E perché cambia l'odore di questa persona? Assolutamente. Loro hanno l'olfatto, giustamente, che usano in maniera eclatante rispetto a noi, quindi attraverso l'olfatto lui capisce quando arriva... E avverte prima. E avverte prima, perché come tu mi avevi detto, se non ricordo male, non si riesce a capire bene, no? Quando arrivano questi attacchi. Esattamente, perché questa ragazza purtroppo non è sensibile ai farmaci, quindi i farmaci non riescono a tenere ferme le crisi epilettiche. Ho un video che mi ha mandato l'altro giorno l'addestratore che è bellissimo, poi un giorno lo faremo anche. Lo faremo vedere anche con il permesso, giustamente, della diretta interessata. Dove si vede questo pastore tedesco di sei mesi che ha il controllo totale della ragazza, la guarda, la passeggia insieme. Io, un cane di sei mesi che non guarda niente altro che la persona, è veramente eccezionale. Ed è per questo che dovrebbe anche, io penso anche ai cani per chi non vede, no? Certo. Quindi, voglio dire, anche lì che costa tantissimo addestrarlo, eccetera. Ci dovrebbe essere una sensibilità maggiore, perché effettivamente un cane addestrato per una persona che non vede gli salva la vita, eh? Assolutamente. Io voglio ricordare questo, mi è venuto in mente in questo momento. Io faccio questa professione, ho fatto questa professione perché quando ero bambino la mia mamma mi regalò un libro che era intitolato Anche per i cani un paradiso e parlava di storie di cani che avevano fatto un qualcosa per gli umani, sto parlando di tanti anni fa. Gli è venuto quasi l'occhio lucido, eh? Eh, sono cose che mi prendono. E quindi anche per i cani un paradiso, è vero. Secondo me ci sono degli animali che sono veramente eccezionali e meritano. Hanno salvato vite, salvano vite, indipendentemente veramente da cambiartela la vita in certe situazioni. Certo, assolutamente. Abbiamo fatto venire l'occhio lucido al nostro dottore. Eh, va bene. Abbiamo, e grazie, perché quando, perché dico veramente, gli animali hanno questa proprietà non unica di smuovere tutte le corde all'interno di una persona. E quindi io ringrazio il dottor Paolo Mezzolo, veterinario, di averci appunto parlato del ruolo sociale degli animali da compagnia.